conviansi in prima dare opera che tutti i membri bene convengano converranno quando e di grandezza e d'ufficio e di spezie e di colore ed altri simili cose corrisponderanno ad una bellezza che se fosse in una dipintura il capo grandissimo e il petto piccolo la mano ampia e il pie è infiato il corpo gonfiato questa composizione certo sarebbe brutta a vederla adunque conviansi tenere certa ragione circa la grandezza dei membri in quale commensurazione gioverà prima allogare ciascuno osso dell'animale poi appresso aggiungere i suoi muscoli di poi tutto vestirlo di sua carne ma qui sarà chi mi contrapponga quanto di sopradissi che al pittore nulla s'appartiene delle cose quali non vede ben rammentano costoro ma come a vestire l'uomo prima si disegna nudo poi il circondiamo di panni così dipingendo il nudo prima poniamo sue ossa e muscoli quali poi così copriamo con sue carni che non sia difficile intendere dove sotto sia ciascuno moscolo e poi che la natura ci ha porto in mezzo le misure dove si truova non poca utilità a riconoscerle dalla natura e via dunque piglino gli studiosi pittori questa fatica pertanto tenere a mente quello che piglino dalla natura quanto a riconoscerle avranno posto suo studio e opera una cosa ramento che a bene misurare uno animante si pigli uno quale che suo membro si pigli uno quale che suo membro col quale gli altri si misurino vitruvio architetto misurava la lunghezza dell'uomo coi piedi a me pare cosa più degna l'altre membra si riferiscano al capo mentre ho posto mente quasi comune in tutti gli uomini che il piede tanto è lungo quanto dal mento al cucuzzolo del capo così adunque preso uno membro si accomodi ogni altro membro in modo che niente di loro sia non conveniente agli altri in lunghezza e in larghezza poi si provegga che ciascun membro segua a quello che i vici fa al suo ufficio in ogni pittura si osservi che ciascun membro faccia il suo ufficio che nienuno per minimo articolo che sia resti ozioso siano le membra dei morti sino a lunghe morte dei vivi sia ogni minima parte viva dicessi vivere il corpo quando a sua posta abbia certo movimento dicessi morte dove i membri non più possono portare gli uffici della vita cioè movimento e sentimento adunque il pittore volendo esprimere nelle cose vita farà ogni sua parte in moto ma in ciascuno moto ma in ciascuno moto terrà benustà e grazia sono gratissimi i movimenti e ben vivaci quelli i quali si muovono in alto verso l'aere dicemmo ancora la composizione dei membri doversi certe spezie e sarebbe cosa assurda se le manie di elena o di effigenia fussero vecchizze ezotiche e se il nestor fusse il petto tenero e il collo delicato e se a ganimede fusse la fronte crespa o le cosce di un facchino o se a milone fra gli altri gagliardissimo fussero i fianchi magrolini e sottiluzzi e ancora in quella figura in quale fusse il viso fresco e lattoso sarebbe sozzo soggiungervi le braccia e le mani secche per magrezza pertanto così conviene tutte le membra condicano ad una spezie e ancora voglio le membra corrispondano ad uno colore per occhi a chi avesse il viso rosato candido e venusto a costui poco s'affarebbe il petto e le altre membra brutte e sudice adunque nella composizione dei membri dobbiamo seguire quanto dissi della grandezza ufficio spezie e colori poi a presso ogni cosa seguiti ad una dignità sarebbe cosa non conveniente vestire venere o minerva con un capperone da saccomanno simile vestire marte o giove con una veste di femmina con una veste di femmina